sta facendo sta facendo sta facendo però deve fare il respon ok starmi io lo conosco però se gli ho levato l'amicizia è perché avevo tanta amicizia ma vabbè lo conosco in ppp comunque da tanto che non faccio live credo non mi ricordo credo hi ma proprio adesso mi devi scrivere che palle allora ho cambiato nome non mi chiamo più cute cute come era il mio nome cute rap no cute cute rap monster vabbè all'inizio era cute monster e poi ho messo cute rap monster e adesso mi chiamo zanna bianca sinceramente prima di zanna avevo messo fiamma bianca e poi ho messo e poi il mio ragazzo mi ha detto perché non metti zanna bianca e io what the fuck va bene metto zanna bianca anche perché zanna bianca è un film se ricordo bene è un cane vabbè questi sono lupi ma si cazzi vabbè ci sta lo stesso allora l'unica cosa che devo fare è mettere l'audio porca troia mi sono cagata in mano ok shish allora leviamo le notifiche meglio lo stavo eliminando poverascio ok a posto si però si sente un cazzo ok e poi mettere una musica di sottofondo allora sinceramente parlando io stavo cazzeggiando che cosa ho detto stavo cazzeggiando con il mio ragazzo e sinceramente parlando aia sapete la canzone panda 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 perfetto allora quella deve stare nel mio canale però sinceramente parlando non va bene per the wolf cioè sì un pochettino sì perché il panda perché non mettono i panda in the wolf mettono solo gli orsi anzi è meglio che non mettono i panda poverini eeeh vabbè lasciamo stare allora io metto play e vado nella prima cup così almeno dato che nella prima cup gli animali sono easy mi faccio più punti e sti cazzi non si sente nulla nel frattempo comunque stavo dicendo per il fatto delle canzoni che le metterò nel mio canale allora le skill le skill sta lagando di brutto ma ogni volta che faccio le live vabbè tanto t'ho visto è inutile che ti nascondi porca proia quanto cazzo lagga c'è un lupo qui ah no non è qui è dall'altra parte di regola in teoria qui ci dovrebbero stare degli animali oppure camp in effetti vado sempre a controllare non si sa mai invece non c'è un cazzo mi faccio un piccolo bagno l'avevo detto io c'è un piccolo problema non è un camp ma Asia come Asia ah non è vaffanculo no perché praticamente c'è una nostra amica di me del mio ragazzo che si chiama Asia ha cambiato di nuovo nome si è rimessa chi è ciao che carina praticamente stavo dicendo che intanto mi sta inseguendo aiuta mi vuole mi vuole stuprare comunque volevo dire che non so dove cazzo andare perché ci sono pochi animali c'è un giaguaro morto qua chi sa chi cazzo l'ha ammazzato porca troia questa mi sta superando non puoi non puoi non puoi sto scherzando un po' povero il giaguaro quindi minchia in due figuriamoci in tre ok allora stanno comparendo gli animali e meno male che sennò poveri i lupi non possono mangiare banzai non posso fare banzai perché sennò poi mi lascio già il culo che cazzo te mordi che mo' te mordo la mamma mi aveva fatto cagare ma vabbè mi lascio a lei ok perfetto mi lascio un po' di punti ma sono già quali i tunnel non c'è un cazzo porca puttana ok croc cam dove aspettate che devo mettere il temporale ti provo ti provo a caricare porca vacca eh minchia tutti i cuccioli siamo porca troia sì perché io mi sento cucciola ma perché devo morire sempre io affamottarella vabbè carità 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 fa affanculo è morto più uno bello ma perché non fanno più c'è da qua ah ho visto un lupo pensavo che era un campo va bene va bene lascio questo va affanfitta vabbè dico pure io thank you giusto perché hai chiamato che schifo 420 player cioè player vabbè c'è un qualcosa qua sopra e già so cos'è oh è un coco pensavo che eri in campo adesso muori così ecco oh che tranquillità del tipo beh non tanto non vabbè porca pupata dite che è morta? bo va bene bo va bene e volevo io e volevo io e volevo io e volevo dire fuggi 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 è lo stesso nome del gatto di di sascia e sabrina e tu che cazzo te guardi ma un po' mi fate un po' spazio mi fai spazio? e che cazzo mi faccio mi faccio sono più veloce di te scusate però è la mia pappa devo mangiare mangiare devo mangiare sì però anche sonno mi vado a rifuggire qua dentro e vado a dormire beh non tanto non c'è un cazzo minchia che silenzio porca vacca beh non tanto silenzio non ha fatto nulla però devo mangiare cioè mettono le skill per questi boh vabbè ma mi sento ok sto impazzendo no non riuscivo a salire vabbè l'ho provato bambi vieni qui ti devo papare porca scusa non volevo questo posto me l'ha fatto scoprire il mio ragazzo non pensavo che si poteva salire sinceramente parlando che cazzo mi sento scusatemi sto screcchionando mi chiamo mi metto a dormire solo che il mio lupo vuole mangiare madonna la voce se n'è andata ciao cervo mi dici di ciao ciao la smetto eh i topini devono morire no i conigli i conigli no li lascio vivere che sta qua no voi dovete morire madonna raga non c'è un cazzo che sta qui comunque si può salire anche qua chi è chi sei dov'è cioè quando è chi è sta qua sopra raga il giaguaro sta qua sopra come cazzo ha fatto di salire qua sopra no aspettate è impossibile che sta qua sopra c'è che cazzo che cazzo c'è le scale metti una scala non riesco a salire ah di qua che cazzo ne so io di qua si dove cazzo sta raga io vedo un cerchietto che gli cerchietti nella mappa sono gli animali e la mappa sarebbe questa io non lo vedo non lo vedo non lo vedo non lo vedo ah sono la sono la grotta che sarebbe questa non sai che tu mi stai sul cazzo se colpivo il coniglietto che stava qui io ridevo anzi mi mettevo anche a piangere un medino vabbè e tu muori ma se io ululo per caso mi chiama il capo il l'alfa non il capo meno male che ho fatto in te porca troia beh porca troia ma no ma no madonna santa porca pupazza oh my god oh my giubbotta ah minchia è fortissima oh proca è rata schiaccia ma è degna dai che questa da tante gemme questa da venti gemme se ricordo non morire non morire la lupa cioè zanna non lupa perché non è più lupa venti gemme ti prego ti prego undici undici sì 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 ma non lo facciamo mi c'è ah è giù una porca poca porca pupazza grazie 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 oh mio dio cosa ho fatto è tumore vieni qui scusa gli ho spezzato un po' la schiena vieni qui anche tu ti voglio apprezzare sei felice devo cambiare schiena che c'è che cazzo vuoi boh vabbè io ma ti conigli no mio dio mi sono ricordata dei conigli perché quella mi ha tirato un graffio senti zia se stavi qua non è che tu mi tiravi un graffio ma io ti tiravo un sorta di chef on del tipo così peggio ti stai zitta troia comunque se senti che faccio la pazza è perché non allora ogni volta che ammazzo le tigri mi succede sta cosa ma ogni fottuta che ammazzo un coco un coco un coco a me lo guida cazzo sto dicendo comunque volevo dire che ogni volta che ammazzo una tigre camp tipo questa qua c'ho le gemme mi fa un bug pazzesco che c'ho 11 più 11 oppure 20 più 20 cioè no aspettate al contrario più 20 più 20 è gay ok papà no questo è più forte mi darà poco adesso ma no mamma mamma mi fa mi mettermi in secco almeno dai mi darà poco cosa lo fa più 4 lo sapevo bastardo affanculo comunque c'è una tipa che si chiama Asia Asia che cazzo ti guardi comunque stavo dice cioè volevo dire lupasoli com'è che si chiama la mia amica perché se guarda le mie live all'improvviso che vede il mio canale cioè che che scopre come mi chiamo su youtube come cazzo si chiama che non mi ricordo dio santo benedetto dov'è l'ho persa come l'ho persa serendipi serendipi c'ho le fan dei bts e armi serendipi si chiama lì vabbè comunque mario mario dugar non lo sento allora lei non è inari no gold come cazzo si pronuncia armi non è sicuro player non è poi non lo so se l'ha levato non arse no non è lupo spirito libera allora tu sai che c'è una che si allora premetto premetto una cosa c'è una che si chiama asia come te che tu avevi messo il nome asia ti ricordi ecco perfetto c'è una che si chiama come te perché ne sono tu puoi lei no comunque i jaguari dove cazzo stanno che mi stanno rompendo le palle adesso non li sento più perché vabbè adesso sono arrivato levati o ti mangio volevo dire che bravo stavo dicendo si è allontanato comunque volevo dire che no non ha capito proprio ah vuole un aiuto per un coco ah ok e devo metterla alla seconda vita cosa bisogna fare per i lupi mio dio no cos'è che è morto le due polpi sotto al temporale sono venute vabbè l'ho morso in lontananza che bug bellissimo no perché io sto bug lo adoro ma dove cazzo stanno in cerno io li sento neanche li vedo ah volete vedere che stanno sopra ma dopo ho parlato velocissimo ma questi cazzo di capelli mi stanno ingroppando che cazzo oh cos'è ma vaffanculo sti cazzo di cosi mi sto cagata in mano vaffanculo ah comunque dovevo cambiare le stile mi sto cagata in mano vaffanmozzarella e l'albero in destra dov'è che si passa di qua uh cambia crocco dai dov'è qua perfetto io sono coraggioscia perché deve morder sempre me l'ultimo morso me lo potete dare te glielo posso dare no glielo potete dare perché cazzo oh morta io e morta poi morta Asia non viene aah perché me e che cazzo no 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 ci sono gli altri lupiti oh gira bravo minchia mi ascolta però no 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 ci sta diventando una vita nooo vaffanculo vaffanmozzarella perché quel lupo è rosso chi è mamma mi stava mi stava che cazzo che a tutti a me no no non lo posso mordere adesso più sei beh sembra meglio di niente rimani qua se non la vita se non la vita col cazzo che glielo do Harry Sack si dice così ok ho fatto la la mossa di Jace che cazzo ho detto comunque stava un coco qua l'hanno ammazzato che cazzo sto mordendo va bene io adoro la prima mappa perché ci sono i coco camp e poi le tigri però per le tigri devi prendere la mappa giusta non sai che mi stai sul cazzo non serve che scappi tanto t'ho visto raga sto posto è meraviglioso non c'era minchia mi sembro gli avuti le Hawaii porca truta chi è che è stato ma va a far più oh cazzo vuole ma se la stuzzica un po' io questa in pvp li faccio in culo io mi sono potenziata la vita io li faccio in culo sicuro ecco appunto lui mi faccio in culo no adesso è lui che mi fa il culo allora facciamo così io ci provo con questa skill anche se non è potenziale ma vabbè grazie zio se non c'eri tu quel cazzo che cioè si tre pavoli no non morite poverino cioè porca broia mari oh tutto a posto mica se non c'era lui morivo io come un ebete poverino ma che cazzo vabbè no no no, no 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 pensavo che voleva attaccare la tigre si a cazzo di cane si però ci sono gli coniglietti si attacca i coniglietti a cazzo il livello è alto di questi tigre non so neanche la vita mi ha spostato la visuale come cazzo ha fatto un po' te li mangi ma da non ti facciamo il culo ce l'ha fatta madonna guardate non c'ho la vita adesso si madonna ma seriamente pensavo che l'aveva ammazzato lui minchia ci mancava poco ci mancava poco si che è caluto ragazzi io do almeno un morso al cervo sicuro che il cervo muore sicuro dai ma ordina tu ok io li lascio i minuti di morsi ok lo faccio salire di libero non si sa mai libero vabbè ero tu cazzo ehi porca troia più uno non so se ho preso più uno ma penso di sì ciao coniglio minchia con un morso l'ho detto che con un morso lo faccio già fuori ok l'ira sono una mica mia che si chiama lira ci sono due lupi che mi stanno inseguendo mi vogliono ingroppare sto scherzando ok però se si mangia tutto lui di cazzo ti stanno inseguendo io ti stanno inseguendo e ti stanno inseguendo e io e La vita perché non si sa mai se muoio come un ebete Ciao zio Non c'ho la vita Fermo 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 Ah ok si è caricato da solo Ma su ste rocce si può salire? Mi sa di si C'è un metodo Eccolo qua il metodo Olè fratelli chiesi i bubli Banzai E tu muori Ma come con un morso dopo tu vuoi ammazzare Vabbè fa niente C'è un cazzo Non lo vedevo Poverino Amore mi manchi? Che cazzo No E volevo salire Cazzo si sale non mi ricordo No mi sono incastrata Ah ok Mi ero incastrata Di brutto poi Se mi incastro Qui No 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 Se mi incastro Qui dentro Alla parte destra Sono cazzi Dovevo ritornare alla base E che cazzo Non riesco a salire PAM Non mi ricordo come si sale da qua Sto scherzando Sto scherzando Ci riesco No Che cazzo Dico così e poi non ci riesco Ma mi sente Se io ululo viene Lo sapete che io ho letto che i lupi Quando ululano o perché si sentono soli O perché devono stare in branco Che carino il mio lupo così sdraiuto Che carino Lo vedo in lontananza Lui cazzo Oh porca troia Ci mancava solo il coco E adesso muore O forse muoio io Non lo so Sì mi fa tanto che muoio io Cazzo Sì poi non lo so Ma mi fa tanto che muore lui Ho questo presentimento Cicci Gratul Cicci Più ammazzi i cicci Quelli Cioè Quelli normali Ma dopo che cazzo sta Zio metti il turbo È al Die Scish Vabbè tanto ci chiamerà L'alfa Penso Vabbè tanto ci chiamerà Perché non ci chiamano Perché sono egoisti Che bello darsi le risposte da sole E tu mi hai guardata PAM Porta pro Zio metti il tempo No Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccolo, appunto, sta là. Stiamo alzando gli animali. E c'ha anche poca guida. Eh no, vabbè, pure io faccio così. No, stavo allagando i semi, stavo facendo uscire dal gioco. Non riesco a morder un cazzo. E non in questo. Io lo aiuto solo a mettere la vita. Ma se non è andato? Sì, sono andato. Allora, e allora, e allora, e allora, sti cazzi, vabbè. Io sento il roar, ma non so da dove proviene. Ah, dalla tia. Ah. E allora era da qua, non dall'altra parte. Ma stai zitta. Ah no, scusate, il giaguaro è maschio. E allora stai zitta. Il giaguaro mi sembra femmina, però vabbè. La giaguara. Vabbè. Io sono un lupo un po' tranquillo. Giaguaro camp. Io ma ora ho detto giaguaro. E adesso qualcuno sta ammazzando un giaguaro camp. Chissà dove cazzo, eh. Ok. Perfetto. Cambio mappa perché qua non so. Che cazzo cacciare? Non ci sono più camp qua. Allora. Io è online. Ok. Io andrei un po' sul pvp, dai. Giusto per divertirmi. Sì, per morire di più. Ma la lascia. Porca troia, me la ficcheranno. Non è il capranzi di brutto. Chi sei? Luci. Mettile un po' le luci perché non so affetto un gazzo. Allora. Di skill metto questa per correre. Perché se me la ficano nel capranzi è molto brutto. Poi metto questa per rinchiudere i lupi e poi mettere lo speed e poi scappare come un ebbete. Perfetto. Ok, a posto. La vita di un lupo. Ma che palle. Io intanto vado a trovare dei camp perché nei pvp ci sono anche i camp. Hi. Una si chiama notte. Io mi chiamo giorno. Oh mio dio. Proprio lì sta il mio nemico number one. E proprio lì c'è un camp. È un camp quello. Sì, sì. È proprio un camp. È proprio quello dovevo ammazzare io. Io lo seguo non si sa mai. Porca troia, questo è più potente di me. Sono visto bene poi non lo so. Ehi, porca troia. Ah, ma lei è del livello basso. Non neanche avevo visto del livello... Sì. Tanto tempo fa. Che cazzo dico? È successo che... No, vabbè, a parte gli scherzi. Non che tanto tempo fa. È successo sempre nel pvp che uno del livello basso mi ha fatto il culo. Ecco. Quindi non c'è... Oh, forse aveva l'attacco potente. Ma vabbè. Aia. Strano che non mi è ammazzata. Porca puttana. Dove cazzo è andata? È volata. Ah, è andata con gli altri, forse. Poi non lo so. Boh, perché cazzo non lo so. Ciao. Bambina bella piccina. Non mi mangiare, ti prego. Ho fatto la brava mamma, sono l'oxo, non mi rompe il cazzo. Allora... Allora... E... Ci vediamo più tardi. Ciao Dio. Ah, ma questi non sono camp. Io pensavo che erano camp. E che cazzo? Sembrava uno camp. Io così penso che posso chiamare l'alfa nel tipo chiamami porca troia. Mi sento solo... Ah, ma l'alfa sta qua. Scusate, me la vado a trovare. Ciao Dio. Ciao Dio. Ciao Dio. Lucy, non so se si legge, cioè se si pronuncia Lucy o Lucy. Penso Lucy, perché Lucy non si può proprio sentire. Cioè, che cazzo. No, non lui. Lui. Ti prometto, ti fa male. Ah! No, 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 non lui. Questo. Mi rata il cazzo, vaffanculo. Sì, però quelli della squadra blu si devono levare. Ecco, appunto. Dove? Dove? Che strana sta mappa. Tutti tranquilli sono. Sì, certo, dico così. Poi entrano gli altri. Nella cuffe. Mi si chiama questa. Stai ferma. Sì, ma... Candy. Candy. Sì, Candy. Ciao Candy, ti saluto nel mio canale. Hai. Oh, poca troia, iniziano a ammazzarsi questi. Ma sono tutti del livello basso? Sto scherzando. Allora, nella mia squadra livello 50. No, aspettate. C'è uno del livello 49. Quasi 50, vabbè. Poi, nell'altra squadra, 45, 48, 45, 5. Quindi, Shadow è un figlio di zoccolo. Perfetto. Il maschio. No, è femmina. Allora, va bene. Io mi faccio i cazzi miei. Vabbè. Ma se per cazzo metto le trappole. Oh, cazzo. Chi sei? Oh, mi sono cagata in mano. Sazza tua. Sazza tua. Arrivo. Almeno l'ho in prigione. Perchè un po' cosa. Qualcuno ha messo le trappole. Ai, no. Ma va, va in giù, madonna, non morirà mai questo, vabbè c'è tua, grazie, non ci uscirò mai, pazienza. Lucy se ne andate non ritorna più. E lo smetto. Chi l'amazza? Come cazzo ha fatto a ammazzarlo? Mi sa tanto che è stata Candy, Sandy, si dice Sandy o Candy, non so, come Lucy, ma forse è stato lui, lei scusa, Turan, ciao. Si, mi sa tanto che è stata lei bui, non lo so. Che cazzo sta facendo? Io vado sempre a vedere, perché mi incuriosisce sta cosa. Si, è stata lei all'ammazzare l'ox, che mi chiedo, come cazzo fa? Madonna, come fa? Ha l'attacco potentissimo questa. Questa mi fa subito fuori, vabbè, lasciamo a fare. Io invece ho l'attacco di merda. Vabbè, lasciamo a fare. Ciao. Quello è easy. No, easy un cazzo. Cazzo, 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 muore. Cazzo, 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 c c'è un animale in lontananza ah ecco il figlio di Socro questo qua lo odio scusate se vi ho morse non volevo scusate se vi ho morse perfetto io non ho fatto un cazzo ma che cazzo sto facendo porca troia scusa zia però quanta vita gli abbiamo levato un cazzo il lupo che io mettevo sempre vabbè a parte quello bianco mettevo quello rosso ma vaffanculo sapevo io è giusto perché sei forte ti fai vedere ma vaffanculo faggot cos'è che ha scritto raga mettete google traduttore perché io non so queste lingue per favore però non è che puoi attaccare all'improvviso almeno avvisa porca vacca allora io lo imprigiono e me ne vado ciao è questo quello che vi volevo far vedere no sono quelle piccole ma se per caso io mi nascondo ma se posso posso salire sulle rocce vero il pvp mi mette un'ansia che neanche mia nonna porca vacca sali lupa cioè zanna zanna sali ok mi sono abituata a chiamarla lupa oppure lupetta fatevi un check io fatevi certo a parte qua si può salire anche lì su quella roccia grande ma non penso però qua mi vedono porca vacca questi li odio perché mettono il veleno nella vita reale no è questi qui posso salirci chi è nessuno ok e gli nemici io sulla nave sulla mappa non li posso vedere che il pvp purtroppo è così invece quelli della mia squadra li posso vedere tranquillamente di fatto stanno ancora lì ma ok io vedo a destra e a sinistra non vedo un cazzo chi è io le a posto di mister poppins io ho letto pompino ma vabbè lasciamo stare e ve lo giuro ho letto veramente così se mi attacchi ti ammazzo che già è poca vita figuriamoci io mi faccio i cazzi preferisco più lupi aiuto raga no adesso me la paghi va qua in culo mi ha fatto cagare in mano beh zitto aiuto ma pur che mi metto la vita nel funcerto ne ha capito pancuno si ruta testa di minchia ma perché il telefono è sporco ho le mani pulite di pesce ed è sporco vabbè lasciamo stare è vero dovevo mettere questo skill che se no poi mi fanno il culo è sporco è sporco è sporco Il potenziato 3 non gli fa un cazzo Ma come ca... Chi è? Ah, ice cream Non gli scrivo niente Quindi la skill così potenziata è così Figo Poi se è un hacker Ma sti cazzi, vabbè Sì, però anche se metto la skill Questa qua che corro Come un cerbiatto Tanto mi pigliano lo stesso Non cambia un cazzo No, sto scherzando Vabbè Non Ma faccio cacare io Boh, vabbè Io non la voglio uccidere Cioè, lei non l'ha fatta neanche apposta Volevo uccidere l'ox A parte che ice cream Ice cream la conosco Cos'è un'ammaffa di niente Non c'è un'ammaffa di niente Porca troia Porca troia Sto player Portissimo Mi rimette la vita Questo qua davanti a me morirà molto presto Vabbè Vabbè Andiamo a stare Come si chiama? Non ci riuscirò mai Vado piedi Intanto lei ride Intanto lei ride Vabbè Ma adesso dice cazzo Off Ma chi è il capo? Ma sono io l'alfa No, non sono io l'alfa È il player Grazie al cazzo È potentissimo Cioè non è questo il player Che sta Questo qui davanti a me Adesso sei morto Stronzo Adesso sei morto Adesso sei morto Che fosse nella vita reale Vincu io Fanculo Arsenic Cucciola Cucciola un cazzo Vabbè Fai so Chi di cui Questa Ma questa skill La posso Ciao È lì Ciao Ok Come se niente possa Vabbè Questa No Non la posso Forgenziare Perché devo arrivare A 750 Sono sola Loro sono in tre Il cazzo Te corri Troppo forte Ma io Che cazzo Ho ucciso No niente Non me lo fa vedere Va a fanculo Ma io Quanti riusci Due lupi La mia vita è completa Ma fanculo Ma se non sai scrivere In inglese Perché scrivi Mango C'è uno che si chiama mango E mango Come fa ad attaccare In lontananza Chi gioca Chi gioca a the wolf Me lo può spiegare Come fanno ad attaccare In lontananza Quello intanto Me guarda Per dire Ma sti cazzi Vabbè Oh porca troia Mori prende La rivincita Non mi ha vista E io scappo Non mi ha vista Non mi ha vista Non mi ha vista Chi è Un uccello Ciao uccello Non vedo un cazzo Bene E non gli faccio nulla Però sono loro Che prendono i punti Che palle Non mi danno Neanche il tempo Di morte Che Problem Ah scusa P e b Mi sa tanto Che è problem Poi non lo so Carcassio Che vengo Con la chiamata Non lo so Voglio usare Le skill di una volta Tanto Questa è più potenziale Si dico così Ma manco Pucaz Ma che cazzo Sta facendo Con l'uccello Sta ballando Boh vabbè Perché divento Io l'alto Perché il player Se n'è andato Quello è più potente Di potente Ah ok Ritornato Come non detto Come non detto Non è potente Tanto 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 Amazza ma non erano due io mi allontano perché i skill di quello arrivano fin da me, cioè, porca troia, io sono lontana e mi arrivano qui non andrò poco porca troia, che cazzo è stato? facciamo così io li metto la vita no, dove cazzo vai? state qua no, niente, eh, muore lui come cazzo fa a morire lui? ah, ok, perfetto io voglio aiutare gli altri, che palla ed ecco come io faccio amicizia con gli altri aiutandoli va bene ah, questo è mango ah, è femmina eh, zia metti tu un uomo femminile, porca troia vabbè, se mi piace un uomo maschile eh, che cazzo fa metto questo così, almeno solo a 5 vabbè vabbè se me magna me magna vabbè intanto metto questo questo mi sono tu è grossissima, portatoia mi sono bronzata sto facendo? no io provo i punti devo ammazzare gli animali che palle due nemici uno là e l'altro là me la piglio nel culo zio vieni veloce ma almeno io ho ammazzato tre lupi quello invece zero nell'altra squadra il secondo lupo è il cane un'altra squadra un'altra squadra minchia l'ha ammazzata di nuovo come cazzo fanno io imparo da loro però sapete perché vado in pvp? per imparare così almeno quando metto le skill io so che skill mettere non è che devo mettere a cazzo di lupo anche se vorrei mettere che cazzo di nome c'ha questa ed è anche femmina guardi stimo per il nome come si dice in inglese estimation name lasciamo stare va oh mio dio non dire che è un hacker questo perché cioè mi ha trapassato cioè lasciamo stare sì mi sa tanto che è un hacker in più mi sta laggando il telefono in una maniera pazzesca oddio che brutto tempo ah è questa la tipa che c'è il nome strano ciao zia c'è pure il lupo nero e io c'ho il lupo scheggiato che bello madonna mia sì però se non guardo davanti sicuro che mi attaccano vabbè lo ripeto sto in pvp per come combattono così almeno imparo ma ti prego non mi attaccare perché non ti ho fatto un cazzo i poveri vabbè poveri come cazzo si dice in inglese chiedo eh come fa a mordermi l'unitonant cioè io voglio però non riesco non non il nostro applaus con culo il nostro applaus Non vi fidate mai Non vi fidate mai Di quelli che vanno lenti Perché Proprio quelli che vanno lenti e poi attaccano Difatti adesso è successo Ma vabbè sticato Porca troia Ma proprio sotto il temporale doveva chiamarlo Bad No il zio si dice fighe de puttane Altro che bad Non vi fidate mai Non vi fidate mai ce l'ho fatta l'ammazzardo no? no perché il gioco è bastardo io vado di qua perché so che l'altro lupo andrà da questa parte e quindi vado da questa tanto i nemici non si vedono sulla mappa quindi vado da questa poi se sta un ox cambio direzione vabbè non sta un ox però sta questo lo sai che è rotta il cazzo? sapevo io oh io un dia spettato no A presto. quando andate nei pvp mettete le trappole anche se se sono scarse oh mio dio non hai capito proprio male eh mo trappini nel culo non hai capito mental io ho letto metal vado piano perché ecco appunto a sto punto metto il temporale voglio vedere se si incazzano o meno ma a me non me ne hai fatto un cazzo ma a me non mi ma io ma non mi Prima o poi moriranno già lo so. Ma se per caso gli scrivo puttana lo capisci l'inglese? Cioè loro sanno anche l'italiano quindi. Perchè ti baga... no dai che spalle. Ma chi ha messo il secondo temporale? Io vi sul secondo temporale. Oh no! 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 Non lo stavo attaccando alla squadra rossa perché io sono della squadra rossa. Non volevo attaccare il tipo della mia squadra. Praticamente stavo sfuggendo dal temporale ma è stato impossibile perché io non tenevo lo speed. Adesso ce l'ho che si è caricato. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Adesso ce l'ho insieme la mia squadra. E allora ce l'ho fatta anche l'alettone con la squadra rossa. ci provo con questo skill non è buon stai fermo che palle quella skill te la fico nel culo voglio vedere come si congela tanto adesso che scrittura come cazzo faccio qui si stanno venendo nella nostra base andate venendo nella vostra mi è piaciuto fare il gradasso adesso l'ho ammazzato io ma io posso chiamare un hacker giusto per farli un po' fuori intanto li roderà un po' il culo un po' le fiume ma lo vedo no perché si è messo lì cucciolotto piccolino poverino giusto com'è che si chiama che carino però io ho un'idea mentre troppo la roba eh c'è sì sì scusa il passaggio non è libero c'è sempre capito poverino questo qui che stava dietro povero carino cucciolo poverino cucciolotto stava dietro avevo paura forse quindi non lo so e laga cioè si sta anche lagando raga mi sa tanto che sta un hacker me lo sento perché mi sta laggando di brutto il telefono uff poverino è morto quanto mi dispiace bastardo crepa la smetto o forse no perché mi hanno ammazzato 3 miliardi di volte tocca me è morto è morto o o o o o Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma è scemo o cosa? Perché è andato sotto il tempo ora? No, no. No. Ma almeno mi sono buttata. Che brutto frasco. Non posso mettere la skill in lontananza, è impossibile. No. 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 perché l'ho scritto male allora so slash which non fai un cacio Grazie a tutti. L'hanno messo anche loro, bastardi. Sono troppo forti, non riesce a ammazzarlo neanche l'alfa nostro. Ma io, una domanda raga, ma io come cazzo facevo ad ammazzare? Cioè, io quando stavo a livello basso ci dovevo fare una reaction perché dovevo capire come cazzo... Ma questa non si sa zitta, vado nell'altra squadra e ammazzo. Raga, non ho scritto cute. Io prima mi chiamavo cute. Non so cosa... No, ce l'ho nella grotta, cazzo. No, ce l'ho nella grotta. Vai tu ad ammazzarlo! Minchia, in sincronia. Porca proia. Sincronizza. Sì, una. Dovevo usare... Ma se potenzio questa... Raga, sono tutte belle le skill, è quel problema. Questa la devo ancora potenziare. Che se è il tornado tutta potenziata. Madonna santa, fa i culi secondo me. C'ho questo presentimento, poi non lo so. Ma sì, potenziata. No, sto scherzando, devo decidere per bene. Io voglio potenziare del tutto questa. Ma sì, potenziata. Ma sì, potenziata. Ma sì, potenziata. Potenzio questa. Questa ha... Quattro. Eh, c'ho 43... Aspettato. Mi servono 100. Va bene. Va bene. Mi servono 100... Un qualcuno... No, non un qualcosa. Mi servono 100 gemmi, sai. Per potenziare la prima skill del graffio. Raga, ma mi sa tanto che non fa un cazzo sta skill. Che cazzo. E anche, a me sa mano nellaenza goldine. Che cañera? Che... 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 ma che cazzuoli mi piace, ma tutto non non io le sto provando tutte le skill solo che devo provare questa no niente non mi fa un cazzo la devo potenziare devo potenziare le skill che mi piacciono però il tornado non mi piace cioè si un po' si da una parte dalla minima parte ma la maggior parte non mi piace perché deve caricare come il temporale quindi no non mi piace per questo mentre il soffio lo devo potenziare a 6 questo invece è easy può arrivare a 500 easy anche questo è easy bastare che riesco a cliccarla porca troia no questa non mi piace anche se questa potenziatissima sensatissima del tutto intendo fa i culi però non mi piace non mi piace ecco che cazzo ci devo fare questa è tutta 150 minchia sembra che sto parlando dei soldi 150 euro ma percatroia la skill che mi piacciono di più sono questa che ho messo adesso poi questa qui questa non proprio però di più questa qui mi piace il soffio il temporale mi è mancato tantissimo tanto poi questo mi ha aiutato tantissimo infatti io ho fatto molte live in cui il primo giorno quando sono arrivata a livello del temporale ho fatto sì che bello ho avuto il temporale ecco vabbè ci ho messo proprio poco ad arrivare a livello 50 e ad avere il temporale faffanculo vabbè lasciamo stare purtroppo non posso farci nulla madonna è piena sta cup e io sei lupi ho ammazzato stando nella grotta vabbè metto il soffio così almeno quando si avvicinano un pochettino gli ammazzo intanto sto laggando e tutti adesso mi scrivono cosa c'è dopo che palle io nel frattempo metto le trappala guarda se vuoi vieni non ti faccio male cioè vabbè perché quello è apposta là vabbè poi sinceramente parlando voglio prima potenziare le trappole perché oh cazzo mi ho fatto un favore ma proprio enorme non stanno sul cazzo i cioè no sto scherzando non mi stanno sul cazzo i cricettini però quando fanno i rumori sì sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieni qua, vieni. Grazie. Ma sbaglio ogni volta che io attacco questo... Ah, è femmina il player. Questa qua mi aiuta. Ogni volta che attacco... No, aspettate. Ma devo vedere. No, non mi attacca. Eh, non mi attacca. Non mi aiuta, volevo dire. Non che non mi attacca. Adesso voglio vedere... Ma chi è che ha lo stesso luco mio? L'altro alfa... È rip di merda. Così se la prendono. Tu nel frattempo combattio non metto le tappe. Oh, ma... Mi sono sempre loro. Ti prego, capisci mi? Metti le trappe. Brava! Stavo dicendo Fufi, però non volevo. Una che mi capisce. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Ma perché l'altro non lo attaccano? Perché? Mmm, bla bla bla. Grazie a tutti. Mi hanno ammazzato Maria. Io non mi ricordo come si chiama il mio amico hacker. Perché avevo un amico hacker. Chi è che sono andato? Chi è che sono andato? Non uscire, già ti fanno fuori. E' il capo dove c'è andato. Ok. Ok. Bastardo ha messo lo speed. Ma lo metto pure io. E metto questo. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Ne va bene in tanti. Grazie a tutti. E' questo è il lupo, cazzo. No, ho detto che sto skill non fa nulla. Mi trovo con questa. No, come è tutto. squadra nippon come si legge i nippon pensavo quelli che si magnano i nippon però io sulla mappa questo qui che tiene il lupo di Asia la mia amica lo vedo sempre blu perchè stiamo in pvp io provo provo questa skill io non ho mai provato questo skill iumi 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 io sto ammazzando me stesso iumi 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 se per caso pure io lo metto vediamo no è sparito lo fai lo foto sì certo l'ho foto però in sto pvp mi sto annoiando quindi cambio pvp perché ho fatto cambio vabbè lasciamo stare però almeno alcuni lupi li ho ammazzati perché praticamente avevano poca vita perché grazie agli altri lupi li avevano no dai di nuovo qui ah ok tutti livello 50 va bene ma che cazzo stavo dicendo ma come fa a mettersi la vita all'improvviso la vita all'improvviso in due no provo a mettere veramente questa skill perché tanto il temporale se voi mettete il temporale prima o poi i lupi si levano da sotto il temporale quindi mettete altre skill ve lo consiglio mettete altre skill io non so che skill consigliarvi perché non lo so neanche io quindi mettete altre skill che io so adesso vengono da me mi uccidono questo è più potente di me e già lo so ma hanno capito che io sono dell'altra squadra un po' di me mi faccio cazzimena il frattempo se qualcuno mi ammazza l'ho ammazzato uno una memoria di un radipo tre ox che vado a ammazzare gli animali da sola vaffanculo eci vaffanculo giro lo E vabbè te l'hai cercata adesso Hai rotto il cazzo Oh mio dio la stavo ingroppando scusate io non vorrei Tu mi stavi ammazzando testa di minchia Scusa scusa un cazzo Ma se per caso io scrivo sono crudele Vediamo come l'ho scritto per forza Ok perfetto perché ho detto per forza Pies ha detto anche qua sta Si l'ha capito Anzi Pies ha detto l'ha capito Perché quello ho scritto Due verso su uno No E io sono crudele La cosa del genere vabbè Comunque sempre sta cupa mi rompo le palle Che prima stavo porca troia Vabbè Andiamo dove mi porta Secondo me mi porta sempre lì Perché è un bug Ah ok Chi cazzo sta Ok No invece di andarmene Devo ammazzare Ah sono proprio qui Ma che abbiamo Gli stessi lupi Sì gli stessi lupi I tre lupi bianchi Solo che questo è quello normale Questi due scheggiati Il mio E l'altro Oddio Ma che cazzo Ragazzi Ah ma qua si può salire Ma il mio fratellino lo manda a fangulo Che cazzo Che cazzo Amso l'ho già Visto E' maschio questo Sì Maschio Minchia Nella mia squadra Tutti i bianchi Tutti i lupi bianchi Sono Madonna Ma non è nè Un lupo Un lupo Un lupo Che sta qua sopra Che cazzo ci fai qua sopra Come cazzo ho fatto salire Ah ok Ma tanto non ci è riuscito Che cazzo ci fai qua sopra 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 Sì. azzarda ti ammazzarmi e ti ammazzo io azzarda ti ammazzarmi e ti ammazzarmi azzarda giallo conosco comunque nostro del territorio non dovete stare aqui Non, 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 non. Amo, scusa se me ne vado col tuo lupo che ha lo stesso tuo lupo, però mi manchi, che cazzo? Che sarebbe questo? Eh no, adesso mi ha fatto veramente infasciare. Eh no, era mio il lupo, non te lo puoi pappare tu. Eh no, era mio il lupo. Eh no, era mio il lupo. Luca, la sto andando. Eh no. Eh no, era mio il lupo. Eh no, era mio il lupo. Eh no, era mio il lupo. Va bene, stiamo pari. Vado a vedere. Ma che cazzo stai dicendo? Non era due versus uno. Ah, non è a me. Perché io stavo attaccando lui, ma vabbè. Vado a vedere se ci sono dei camp perché qui li trovo. Ma affanculo, pezzo di merda mi hai fatto cacare in mano. Mortacci tua. Credo che non ci siano camp. Quello mi ammazza. Oddio. Ah, musica falsa. Ah, sono qua. Alla prossima. Ma quante parte è questo? Ma che cazzo sta facendo? Oh mio Dio, sta sul tappi rolando. Vabbè, io mi vado a nascondere. Vado a trovare una bella stanza. Ciao Dio. Porca troia. Pure in due li hanno messi. Chiamate. Dove fare il culo. Ma è femmina? No, è maschio. Va bene. Vabbè, dai kiss. Giusto perché sei maschio. Amore, non guardare questo video. No, sto scherzando. Ti voglio bene. Non, cioè, non al mio ragazzo. Cioè, sì, anche al mio ragazzo vi voglio bene. Però... Giusto per non litigare in PvP, lì dico, chiss. Dov'è, 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 dov'è? Ma quanti... Dov'è sono? Boh, papà. Magari metti un gong, che cazzo. Beh. Questo qua mi ha attaccato prima. Sì. Ah, no, no, no. Ah, sì, sì, è lui. Ma che cazzo. Muoi, Jenna. Devi stare sotto il temporale. Che fallo. Roar. Dove sono? Mettono la chiamata, ma non so dove cazzo sto. E poi questi giocano più di me. Io all'epoca giocavo tantissimo. Vieni qua, vieni. Che palle. Troppo facile mettersi la vita. Però è meglio che me la metto pure io, così almeno mi ha dato un buon consiglio. Cosa? Sono sola? Non mi dire che sono sola con quel deficiente. Sì, sono sola. Va bene. Ok. Perfetto. Adesso me la piglio nel culo. Non mi dire che mi viene a trovare adesso. Ragazzi, io rimango qua. Madonna santa, questo mi viene a trovare adesso. Già lo so. Ah, ok. È entrato uno nella mia squadra. Possiamo andare. Vieni, insieme. Ho detto, vieni. Venite. Vabbè, tanto devo mettermi in portale qui. Cazzo. Mi sono ingruppato gli animali, porca troia. Ma che cazzo? Fatemi una vita. È di certo non come il cocodrillo. Non mi attaccare. È un lupo, è fatto. Si chiama Foxy. Un lupo che si... Amore! Oh. Ah, non mi può sentire. Aspettate. Che tu coglioni. Che mi deve chiamare. Aspetta, porca troia. Intanto entro in the wolf e lo chiamo con l'altro telefono. Che non so... L'altro telefono dove sta? Dove sta? È sparito. Ah, eccolo. Provato. Se magari mi scrive... Forse mi ha scritto, ma... Mi gira la testa. Che palle. Ma che si è aggiornato the wolf? Perché lo vedo un po' strano? Vabbè, non ci mostro. Sì. Ok. Penso che mi ha scritta. Aspettate. Sì. Mi ha mandato il messaggio. E io neanche l'ho visto. No, perché me l'hanno mandato anche loro. Guardate. Allora, me l'hanno mandato Jessica, la mia amica. E anche il mio frate... Cioè, non è il mio fratello per scelta, eh. Lasciamo stare. È una storia lunga. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè. Boh, vabbè. Lo sto chiamando. Sì, ti sento. Io non ti sentivo. Eh, lo so. Che fai? Che faccio? È nulla. Cioè, sto giocando a the wolf. Perché, praticamente, in teoria mi volevo sentire con Doc e gli altri, oppure con la mia amica Jessica, solo che parla sempre del suo ragazzo e dei suoi problemi. Ma, vabbè, cioè, sì, la vorrei aiutare. Solo che... Poi ti spiego, vabbè. Ti vedo online. Vuoi chiamare loro? No. No, cioè, se vuoi chiamare loro ti lascio in pace? Non succede niente. No, non li ho visti online. Quindi. Ah. No, vabbè, se vuoi stare con loro, tu dimmelo che non c'è problema. No, non voglio stare con loro. Intendo adesso, ecco, non... Non adesso. Mi vieni a fare compagnia? Credo. Se ci fosse un posto... Non c'è posto. Aspetta, vabbè, aspetta un attimo e poi niente. Come non c'è posto? C'è posto! C'è un posto. Però nella mia squadra. Nell'altra è rossa. La mia squadra è blu e c'è un posto. Ma allora a momenti dovrebbe liberarsi. Eh, si è già liberato! Cazzo dici? C'è un posto! Ma lo capisci che è il gioco che fa così? Non c'entro io. Spegni il telefono dal tasto e poi riaccendilo. Ora mi ha fatto entrare. Ok. Andiamo? Non so se mettermi... Non so se mettermi il... La palla di fuoco. O qualcosa per scappare. Secondo te sono potenti quelli? Prima andiamo a vedere, poi... Quando moriamo e andiamo in grotta... Vediamo cosa possiamo mettere di skill. Intanto vedo un orso steso. Non so se tu lo vedi. Si sta riposando. Va bene. Aspetta vado alla chiama. Eh, sono scarsi! Si! Metto la palla. E li mangio. Oh porca troia. Ma i mortecci vostri. Tre. Scendi dall'albero. Pezzo di merda. Per me non sono scarsi. Mi sta uccid... Ah no. Ce la faccio. Ma no! Che cazzo! Relax. Ma se stiamo in PvP che cazzo vuole? Se vuoi relax te ne vai nella prima mappa dove sono tutti scarsi e stai fermo. Mi stanno attaccando in 3.000. Grazie. Uno si chiama Chui. Vabbè quella troia scende dall'albero. Scende. Baffanculo. Mi ha uccisa con un colpo. Gravity. Ah si chiama Gravity e sta là sopra. Sì ma io gli ho messo il temporale. Sono io l'alpha? Perché sono io l'alpha? Solo perché ho ammazzato due lupi. Mi ha ucciso. Come due lupi? Ho ammazzato due lupi contemporaneamente. E come? Cazzo tengo le magie. Oh mio Dio. Tengo le magie. No cola. Mi ha fatto fuori. Aspetta. Allora facciamo così. L'attacchiamo insieme a Gravity. Dove cazzo sta? Aspetta devo mettere il portale. Mi sta sul cazzo. Deve morire. Ok io il portale l'ho messo un po' lontano da loro. Così almeno non ci attaccano subito. Deve morire. Dove è quella puttana? Sta qua. Ah no questo è il player. Dove cazzo è? Ah se n'è andata. Ma vaffanculo me la piglio con questi. Mi ignota. Vieni qui che ti faccio la bua. Eh sto nemmeno. Eh aspetta lasciami una coscia di lupo. Cazzo a te. Ti ho preso pronta a chi? Aspetta. Cazzo vuoi puttana? Brutto merdoso. Ma è maschio o femmina? Femmina. Femmina. Maledetta. È sparito il portale. Io ho quattro lupi ho ammazzato. Ma come? No l'ho immobilizzato. C'è l'ha dato. Sta proteggendo l'alpha. Chi è lì? Questa è l'alpha? E non muore. Grazie. Niente. Lui ti ha detto kill me. È vero. Si l'ha scritto prima. Eh io non l'ho visto. Torna con gli sproni. Non c'ho più skill. Vai. C'ho amiccio. Miau. Miau. Comunque sei in live. Saluta Antonio. Cos'è che sono? Bello. Ah. Vai in grotta e poi vieni. Non in quel senso. Vabbè. Non l'hai fatta la live. Molto. Chi cazzo è stato? No c'è uno più forte nell'altra squadra. Non ci riusciremo mai a farlo crepare. Mi ha uccisa con un colpo. Adesso lo inseguo e gli chiedo se ha voglia di morire. Però mi sa che mi ammazza lui. Si ti ammazza lui. Dove? No. Allora. Vabbè. Io metto lo speed. Io metto lo speed e poi... Porca troia quanto... È troppo potente. No 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 no. Io metto lo speed e questo. Fanculo. Si chiama Rian. Come Rian? Che è? Rianna. Sì è Rianna. Dobbiamo stare attenti che quello comparà all'improvviso. Mi ha attaccata da dietro, affanculo. Come ha osato stuprarti. Dove? Ma è questo? Si. Attacchiamo. In due attacchiamo. Guarda quanto gli abbiamo tolto. Ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai. Sì. Sì. Cioè sì. Scusa però non moriva. Io l'ho, 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 l'ho. In due possiamo battere. Cioè l'euforia mia è epica. Io lo so. Sono morti pure i criceti. Reali. Dove lo stronzo? Oh cazzo. È qua lo stronzo. Lo stronzo alfa. Vieni, attacca sto stronzoide. Dai, 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 dai. No, no, no. Eh, no. E mettono anche il temporale. C'è pure l'aiutante di merda. Capito? Vaffanculo Comunque mi sto facendo Io stavo in pvp da tanto tempo Che sto facendo la live Ma lui L'altro lupo dove cazzo sta Sta la cazzetta Ma è la live che ho visto prima Che hai chiamato io sono Zanna Bian Sì Mentre lui sta facendo cazzate Io lo ammazzo Ah non è lui Fa niente No lui è qua porca troia Nel frattempo ammazzavo questo con il temporale Sì Ci sono riuscita Dai amo dai amo dai amo Ah no è lui che ti uccide Che cazzo Se avessi avuto il temporale Le avrei fatto il culo come una campagna Facciamo così rimaniamo in grotta Facciamo che le skill si devono caricare E poi lo uccidiamo Questa è la mia idea 34% Per cento trentaquattro Che palle Aspetta Tu dovevi vedere l'acqua del mare cos'era oggi Cioè hai presente il brodo Che schifo Che schifo Ma bollente La faccia da evito A caso Ok c'hai le skill? Sì Ok Andiamo Ah sono qua Ah Mamma fango Ah Ah Ma come cazzo ha fatto Brutto Della madre va a casa Cosa che hai detto? La madre puttana Fa caldo Fa caldo Fa caldo Tu nel frattempo Tu nel frattempo uccidivo con l'altro lupo Sembra se l'altro lupo non muore Con una epete come io Tanto mi ha detto Ma come scappa Guarda come scappa il figliacco Vieni qua Perché c'ha paura Dimagrante Un pezzo di merda Quasi morto È vero? Ma mo' fuori E' questo? No E' questo? No Dove? 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 È scappato in dana È scappato in dana È scappato in dana Il frugge Dove è sapere il sangue Chi è che mi sta robando il caso? Dai venite cazzo No Oh Vieni Ti son venuto dentro Adesso no Sai cosa mi è venuto in mente? Metti le trappole Tutte le trappole che c'hai Metti Intorno Là intorno Tutto intorno Appena carica Dai 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 cazzo Dai 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 Porca pottana Muoviti E se non carica Appunto Ho detto Muoviti Vuoi un po' di fazzoletti chiedo? Sì Ma non per il naso Ehi Eccolo il puttano Vieni puttanino Devo dire una cosa No ma non è lui Dove è andato lo stupido? Fa niente Mamma Ma non ho messo neanche richiamo Cioè si l'ho messo per il portale Se non è andato a fanculo Sta morendo È morto C'ho C'ho Non puoi capire C'ho il veleno dentro la grotta Che cazzo ridi? Chi è questo? Che ci fa nel mio territorio? È la mia grotta questa Vaffanculo Troia Attacchiamo quelli piccini Meglio danno punti Va bene Oh cazzo Aiuto Amo torna indietro Sono pure in due Non ce la faremo mai Oh mio dio Ah torna indietro Ah ma ce l'hai fatta Va bene Io quanti lupi 8 lupi Minchia 5 Amo Spicciate La smetti? Facciamo così Io corro E tu i uccidi La smetto Ah Vuoi fare come con lo iac Lo facciamo a correre Ma loro non sono così scemi Un po' si Perché se Siamo due lupi E c'è un lupo Lui rincorre a me Mentre mi uccide Oh cazzo Perché non riesco a fargli niente? Griglio Aia si chiama Com'è che si chiama? Aia 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 La carne Aia Mi fai male Porca troia Ok Ho capito Ti faccio male Amo Non ho capito Cosa mi hai detto Quello che hai detto tu Quando? E no Ma non capisco Cosa c'entra Vaffanculo Tu gioca Stai zitto Vabbè No io non vado dal portale Tanto so che al portale Metteremo le tre oppole Ah no Perché sto cristiano Non li fanno un cazzo Vaffanculo Vaffanculo Amo non ti alterare Stai cazzo Vaffanculo Ma cos'è questa cosa Che ti fanno esplodere dal nulla Ma porca puttana loro Non è possibile Gesù Cristoforo Colom Sì Non sai Ascolta gli attacco e basta Mi hanno rotto i coglioni Ne frega niente Devono morire tutti Struzzi Vaffanculo Vaffanculo Sto buttando nella mischia Sembro un gladiatore fuso di testa Oh stia Ah tu stai morendo No ho ucciso un lupo Però sono morto Guarda che froce è uscito Per non morire Quanto cazzo Sono bastardi Io l'ho fatto tante volte Sì ma sei Un bimbo minchia Se fai una cosa del genere Metti il temporale Sì Forse il carico Ma se non lo metto Vuol dire che non è carico Se non lo metto Ah utile adesso metterlo quando non c'è nessuno È proprio utile Ma tu ho 11 lupi ucciso È vero Vabbè Sembra meglio di niente Adesso mi spiega perché ha messo questa cosa qua I marmi Se non c'è nessuno Aspetta com'è che si chiama questo Come cazzo ha fatto Ma che lui se ne ha tolto Rocio Io ho preso la tracola Ce la puoi Eh sì io mi sono messa lì A posta E l'altro Sta fermo a guardare Porca troia Dai ma che schifo Ma non si può giocare così Io vado intorno Ah ma attento 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 Oh cazzo vuoi Anche io non ho skill Qua c'è un lupo Io ho capito Barelli Che sarebbe la barella Poi non lo so La barella Sì quando muori La barella non è che serve quando muori Serve per aiutarti C'è la bara Quando muori Ok Ma li stiamo facendo C'è 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 Minchia che dici ma mi fa un culo c'è quanto li ho tolto brava Zanna brava Zanna che brutto nome si lo so per quello l'ho detto non lo dire più traumatizzata a via alfa di meri sto facendo una strage sto uccidendo anche me però va a fan di lui dai amor ce la puoi fare mi spaccolano dove sono sono già morti vabbè a me non mi hanno fatto un cazzo sono trappole di merda no aspetta adesso lo faccio scapare l'os no c'è il bug oppure un metodo che sanno solo loro e noi no stramadre Zoppola Zoppola sto morendo di caldo zippola minchia le zippole che buona io non so che cazzo sono tu le devi assaggiare non so che cazzo sono remedi di merda vaffanculo se ne trovo te ne porto vai in Tana no ma quando mai non ci andrei mai uccidi ballistik come che cazzo di nome questo non questo vabbè anche questo ma che cazzo è che cacchio un chiapastardi maledetti schifosi che non sono male remedi di merda giusto perché non sanno giocare devono essere per forza degli hacker perché non sono contenti ma voi avete messo il temporale o cosa? io l'ho messo ah ma sei l'alpha quanti cazzo di un lupio è ucciso? quanto a te eh ma l'altro alfa ne ha uccisi più di noi guarda guarda che frocio lo stavo uccidendo se n'è andato che bimbi minchia cazzo no non voglio morire che me ne fai porca troia poi se ricaricati quanto muori che bimbi sei mia nipote come è piccola mia nipote e dice e dice già e dice già bimbi dimmi dimmi zia lori voglio provare il primo graffio ciao zia lori no no zia non lo dice sa dire solo nonni che brutta nipote che c'ho che peccato si stanno fennendo se ne stanno andando tutti no mi dispiace c'è un lupo della nostra squadra più in lontananza cioè qui c'è anche l'orso che lo attacca è della nostra parte non riesco a usare la prima skill vaffanculo e metti il richiamo intanto non ho skill non vado per vecchia finalmente sono andata puttana è morta brava la mia lupetta volevo dire bianca io la chiamo bianca biancaneve potevo chiamare il mio lupo biancaneve perché sta sempre sulla neve il mio lupo porca troia io entro sempre in sto pvp di merda porca puttana mi chiamo mi voglio prendere il lupo tra un po' no me lo voglio prendere non ho ancora le gemme bazar che coglione lo stavamo uccidendo e se n'è andato si si sono dei froci non c'hanno le palle sono gay io me ne vado io invece mi metto la vita vaffan gola vaffan gola e poi mi uccide con un colpo vaffan gola uno si chiama coffee che buono il caffè ma che a te piace si ma non lo posso bere perché c'ho l'epilessia se mai se mai posso mangiarlo col gelato perché il gelato almeno è dolce anch'io non lo posso bere in teoria però mi piace lo stesso a volte lo bevo cioè bevo un tè caffeina vaffan gola a coffee non sei più buono non sapevo ti piacesse il caffè no non mi piace il caffè perché è amaro cioè se mai mi può piacere che so col latte ah tipo il cappuccino si ciao lupo bello ciao ciao ma perché no ciao ciao nel senso ciao addio ciao 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 addio scusate se riprendo il lato B del mio lupo però dovevo vedere lo sapevo io cosa che riprendi per vedere non è vero ma smetti tu ciao figlio di zongo si lo so mi faccio di canne tranquilli è naturale questo è coca non è son canne ah lol 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 mo ti faccio vedere io lol minchia caffè di merda caffè di merda mi mozzi che anche da morto tu farei una brutta fine vieni qua tu tu ammazza il caffè tu ammazza il caffè e io ammazzo no 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 non questo dove il caffè tu ammazza il caffè e io ammazzo questo e lo mangio il caffè di merda dove ok no e torna stavo per prendere quella troia lì invece no lascia lasciamola a me il livello basso ragazzo cioè guarda si ripara capito si ripara il livello 49 capito si ripara ma che razza di che fa la guerra ok ho perso la guerra non si fa così aiuto ragazzi mettetemi come un cane da caccia perché io io muoio come una carriola madonna ma chi è questo gesù cristo eh lo so io non esco più andiamo nell'altra squadra facciamo un frio no non possiamo che palle dove sei gesù devo uccidere gesù eh come eh cosa trovi con il culo eh ecco sto per uccidere due mi ho uccisi due sì sono fico sto scappando aiuto no no lasciami uno pc uccidire uccidi il capo uccidi il capo uccidilo c'ha poca vita mo c'ha poca vita uccidi uccidilo e anche io c'ho poca vita non assillarmi in questo modo aspetta che le skill faccio ok dove 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 l'hai uccisa non lo so no l'hanno uccisa gli altri quel cretino ma fanculo remedi di merda remedi 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 ma perché non si poteva scrivere cioè non si poteva mettere il nome merda fanculo accendo la luce non si fitte un cazzo perché non creta e là ma che cazzo è tutto sto macello amo sei stato tu amo si sei stato tu sta scritto leo ha ammazzato roffi ma per caso tu tieni il soffio che cazzo di skill tieni tu si si ce l'ho però non è potente madonna eh si contro il tir devo andare contro il tir è sempre remedi di merda remedi aspetta vado al bagno e ti penso ok perfetto adesso sto benissimo potevi evitare di fare questa cosa eh purtroppo quando penso una persona di merda devo per forza andare al bagno perché sennò poi non riesco a farla ecco e purtroppo è così e l'orso sta sempre là comunque è sempre è sempre me merdi ah me merdi ti posso chiamare e va a fango ma ancora e mo ah buona gioia muori esatto muori no non muore quanta cazzo di vita tiene sta puttana sta troia che la mamma la mamma è più puttana di lei vai in tana se no ti uccidono questo mi uccide anche in tana è potentissimo mi uccide anche in tana io ho fame anch'io vado in tana mi devo mettere la ponza la ponza la ponza la pinza la ponza madonna mia ma benedetta tu stai trasmettendo la mia live tu stai trasmettendo tutto ma io ho paura che torno un video me ne vado ma perché non ti apri un canale youtube che è questa storia mi fa falla la città palla non la palla la spalla io avevo capito veramente la palla oppure un'altra cosa la palla ecco Anna è un po' di distrazione eh sì e che cazzo c'è il raduno qua ma vaffanculo oh una è morta in colta chi è che sono andato war no war sta giocando con me no sarebbe war guerra porca troia ma ti ho malevato tutto perché tengo la c'è la boh vabbè non so che cazzo dire ho ucciso qualcuno ho ucciso qualcuno porca troia hai ucciso coffee insieme a me mi hai neanche ingroppata mentre l'abbiamo ucciso non accetto di essere ingroppata io tu mi hai ingroppata ah io sì non gli ho levato un cazzo allora mio dio che figo che figo io sono nella mischia muoio come una mosca però intanto ammazzo qualcuno non riesco perché sto figlio di puttana non riesco a ucciderlo minchia cofia poca a mo mi puoi fare un cazzo del favore di uccidere l'alfa mi sta sul cazzo per favore se evita di uccidere me questo minchia coca puttana vieni qui ah l'alfa è quello aspetta poi l'ho ucciso voglio uccidere quello ci sono quasi sta per morire sta morendo è morto ah tu l'hai ucciso io come cazzo ho fatto a ucciderlo vai a mo aspetta un fuori si muori zoccola puttana no vai nessun carico mi ha mi ha no ho sprecato è come un matto che brutta frase è detto così è ambiguo anche oh si sfreccia sono gay stai impazzendo astro non so grande vuoi no tu no bravo remedi di merda ti uccisa finalmente puttana sei una zoccola uccidi bravo bravo vai no uccidi bravo bravo no oppure sai che cazzo faccio metto la vita per tutte e due vediamo che cazzo ma che palle c'è questo lancia fiamme lancia ghiaccio lancia fiamme quello è il cocodrillo guard no ci fissiamo come sguardo i platoni guarda che bordello uff ma che volo via però sono morti si hanno ucciso anche Kimbo chi è che si chiama Kimbo vediamo allora allora Leo Leo Zanna Bianca i nostri nomi si salvano war g cazzo cazzo tedesco Harley Quinn ancora ancora ok re re merda ok coffee ok Anna Silano dove cazzo l'hai letto il nome che hai detto tu amo era una battuta il caffè Kimbo io non li bevo i caffè te l'ho detto uff ma dove ciao che pagno e quanti cazzo di scudi forse ce la faccio no io no quasi morto quasi morto quasi morto dove sei tua zia no non è questo non è lui mi fa un cura sta girando in tonda come un brocio ma per morire si rimetterò pure la vita sti puttani l'ho ucciso ma io non ho ucciso lui ha ucciso me e io ho ucciso lui siamo uccisi aspetti mi sembra una cosa figua secondo me chi vede questa live o si spara o scappa via scappa via quelli che si sparano sono loro ma questi mi stanno sparando a me con questo un refrigerio di merda ma vabbè mi hanno scassato il cazzo mettiamo tutte e due il temporale retromarcia non ce la fa uccidi silano a poca vita perché proteggono l'alfa stifroci caga cazzo porca troia faccio mica niente ok questa è una cosa figua ok la prima lettera dell'alfabeto la conosci buca puttana hai ucciso no lei ha ucciso porro top non per se schifo lasciamo la mella alfa spera mi sta carapando il caffè lasciamo la mella alfa troia ho ucciso il caffè tra la 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 ho ucciso il caffè tra la la ok questo è uno sfogo perfetto possiamo continuare a giocare io stavo pensando un'altra cosa mare no stavo dicendo se usi questa foga con me io non torno vivo ora mi spieghi aveva aveva 179 come cazzo ha fatto a sopravvivere non lo so perché loro hanno dei poteri magici che noi non abbiamo no sono rotti in culo non hanno poteri magici sono rotti in culo ti sta inculando uno cazzo gli ho tolto gli ho tolto 7 mila con un colpo e beh io con le dita lo ammazzo ma va a fare porca puttana puoi crepare ora sei morto troppo tantola di farmi un piaccio è che è un colpo ah si allontana da me perché c'ho il veneno addosso minchia ventura sei come i lebrosi fai scappare la gente e chi? perché io non uccido è che cazzo è che cazzo la fazza di merda come fanno hanno lì hanno messo la mia stessa stessa skill non so parlare hanno messo la mia stessa skill uguale mari mari ma ci è entrata pure in tana amore e tu come non puoi compitere cito Fabi J ha ucciso il caffè la smetti sta dietro di me a incularmi ma la smetti non vuoi inculare a me che cazzo è che mi ha tolto sarà un animale che ti sto inculando no che pal stavo dicendo sarà un animale che noi non vediamo che sarà probabilmente un bug ma se ne sono andati o cosa? ah no stanno ancora qua io ho 23 lupi ho ammazzato non è mai succe- non è mai successo ma se ne ti avevo visto che ne avevi ucciso 70 una volta è vero? porca puttana è frozen let it go let it go e lo sai che tua madre è una puttana la smetto la cazzo mi ha fatto a rire ma c'è il cazzo ma mamma cofi di merda mi vuole sempre inculare il mortacci suo ma se per caso scrivo inculami ecco boh vabbè che palle stava muorendo quello stronzo oh ha rotto il cazzo con questo cacchio di colpo il rigatore di merda sta quasi increpando mi sa tanto non lo so vabbè quella troia ha ucciso 110 lui chi? merda? adesso 111 più me e più Harley Quinn usano le mie stesse fottute skill cioè io metto una e loro dicono cazzo però mi sa tanto che questa skill va bene ma le mortacci tua possino le mazzate le più grosse copioni solo perché non sanno che cazzo di skill usare ma sono impegnata vieni qua vieni 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 almeno uno che è morto vieni qua un attimo che mi stanno ammazzando in 3.000 porca mi sono fatti vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua Ora non si senta il proprio Che brutto cielo Dai Mary Tutto nuovo devi dire Dammi che posso Ok A posto Fatto Sono viva Ok madonna che cazzo di piatto Che tengo madonna Credevo ti stesse picchiando No vabbè se mi picchiava Muore nonna Stavo dicendo Stavo dicendo se mi picchiava Non Qua non sto toccando nulla Sto facendo tutto il mio lupo Eh raga Io non ho toccato nulla Che cosa sta succedendo Vabbè Non so cosa dire Eh Cosa ho detto Ma tu dove cappio Sei andato Anzi Sei andato Non è uscito un attimo Non so cosa è Hai Ho 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 Madonna mi stanno ammazzando Papagulo Queste monsichette me le fa ascoltare mia madre Che sono pure i miei Che cosa ridi che è vero Madonna che fa caldo mi lego la maglia Che fa caldo Oddio Ho amato la maglia piena di sudore Dopo più tardi mi faccio una doccia Perché non ce la faccio più No no aspettate Io adesso esco dal gioco Vado a vedere quanti cazzo di gradi stanno Non i bt Aspetta Non i bt Non Jennifer Lopez Tutti in live sta succedendo Quanti gradi a Bari Quanti cazzo di gradi a Bari Vediamo Come 29 Se lei non ho voluto Se te lo spassare Che cosa ho detto Come 29 gradi Ma come No dai È impossibile Fa caldo È impossibile Dove Ah 34 gradi Ah vabbè Il mio telefono mi dice 34 gradi Ok è giusto È giusto Comunque Ma qua ne segnava 40 Allora se stavo da te morivo Ah ah non farvi ridere Non so se ne è capita Ah 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 La smetto Vuoi entrare? Dove? Entra Fa le Cioè Vabbè Lasciamola stare Aspetta che mi abbassa Di pantalogo Non in live Grazie Stavo un po' qua Che mi faccio un po' di gen Mi hanno rotto le palle Con gli strumenti Tutto il mio lupo sta facendo Che palle Non avvelenarmi perché Mi canno Grazie E la fame che ho Vabbè dai Vengo da te Aspetta che sono Questi mi fanno fuori E prendono i punti miei Vaffanculo Dopo mi mangio Mia madre Ho capito Poi mi mangio Mia madre Io questo ho capito Hai capito bene Perché? Sto crepando Fa caldo E non pensare male Non pensare male Perché hanno chiamato Ah Per un uccello Che è detto così Amico No è già morto Posso potizzare Che bello Ma vaffanculo Una Quattro Tre Tre Due Uno Cos'è? Tommola Ci sono Ci sono De coccodrilli Ed un orangotango Sì Ancora in live Sì Perché? Stai impazzendo così In live Dei piccoli Serpenti Un aquilare Un gatto Il topo Un cazzo Minchia Ma che cazzo Vuoi? Io stavo camminando E mi compardo avanti Ma vaffanculo Vabbè Stucco Vabbè Stavo dicendo Ci sanno No Tu stai male È il caldo Credo Poi non so se sono io Una La cettolina Ciao Che carina Aspetta che ti metto la vita Che se no poi crepi E muori E poi Ciao Chi so Cazzo vuoi? Ma tutti i laschi C'hanno Solo io lo devo avere Un'aquila Un'aquila reale Un cazzo Dopo me Un gatto Un cazzo L'elefante Non me caga Più nessuno Solo non si vede Il cazzo di Antonio Chi cazzo è Andonio Saluta Andonio E tu Chi cazzo è Pasquale? Ah è ricco Mi ha rotto il cazzo Questo Ma ne vado Mi hanno rotto i coglioni Eh che cazzo Me lo fate mangiare? Chi cazzo Stavo andando Mi mangiano tutto Sti coglioni E se sono io? Io 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 Almeno non ho scaso il cazzo Credo Poi non lo so Perché sto lupo Sti sta fermo? È uguale al mio Ah no Tu puoi mangiare Sono gli altri Che non mi devono mangiare Nel corpo Ah sono E su chi c'è? Ah no Lo sta già uccidendo Coco A me lo guido Coco Sì però Coco Mi ammazza Dai 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 Madonna Aiuto Lasciamelo a me Perché so che mi devi aiutare Ti vuoi aiutare Però lasciamelo a me Dai le schiene si devono caricare Che palle Ok perfetto Pum Non gli ho fatto un cazzo Dai 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 Zanna Dai Devi azzannare Porche troi Oh perfetto Tanto sento che stai stuprando il telefono No veramente mi sto spostando No veramente mi sto spostando Che mi ammazza Cc3 Uccidi questo E vola Vieni Corri 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 Guardali Mi molli Albino di me Che facciamo Restiamo a fissarlo La vita mia Si deve caricare Tu vieni Mordilo Sì certo Poi muoio Non pensare male Madonna Sta crepando Sta crepando Si sta alimentando la vita A mortacci sua Si ma crepa l'ultimo Io non crepo Io crepo Pam Sono caduta Aio Più Sei Da più sei Questa merda Mi sa di no Lo sai che hai rotto il cazzo Perfetto Questo si chiama I'm baby Sti cazzi Mi chiamo baby 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 Oh Ma che canzone è? È la canzone di Justin Bieber Baby 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 Aquilone coloraggio Eeeh Ciao zio Ciao Oh porca Troia Ciao pio Pio Sì però il pio mi ha rotto un po' il cazzo Cheat Più sette tu? No smetti Aiuto Mi vuole soprare Perché sto inseguendo sto criccietino Che poi tra l'altro non è un criccito Ma vabbè Lo sai che stai morendo? Sì Aiuto Aiuto No sto scherzando Non mi serve l'aiuto Credo Non lo so No sto scherzando Non mi serve No sto scherzando Non mi serve Aiuto 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 Chierati dall'altra parte Bravo Ma dove mi ascolta? No 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 Non ci credo Minchia è successo in live poi Che bello Poverino Scusa amore Però deve morire il maschio No aspetta Ma l'amantide religiosa Cioè Ah no L'amantide religiosa Uccide il maschio Sì ma ascolta Ma io non sono religioso Quindi lasciami in pace Ma cazzo c'entra Io voglio più vivere Ma non c'entra nulla Ma io non muoio Ma do sta skill Tre ore Ma do sta skill tre ore Sono l'alpha di merda Questo è l'alpha che fa i culi Mi ha rotto il cazzo Sta mangiando tutto Questo qui I'm baby Questa è una capra Ah no Sembra No 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 Non era c'è Sei innamorata di te Aspetta ma è femmino maschio E' maschio l'alpha E' si attraente Amore mio Faccetta epica Aspetta la metto io La faccetta epica Perfetto opposto Guarda 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 Pam No Sono crudele Lo so Povero Povero sgorbio Sgorbio Io non muoio per un Per un uccello Vaffanculo Anzi Per un uccello Eh vabbè Eh Cosa No 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 Non ho sentito Eh Non ho sentito No Cosa Io non ho detto niente Gua gli altri stanno trovando gli alfa Eh gli alfa I camp Non gli alfa Cazzo dico I alfa Cazzo dico Mi sono fumato 3700 canne Per dire sa cosa I I Vediamo se muore Aspetta non morderlo Vediamo Ole Fraterni di tesi Che cazzo vuoi Tu ammazza questo Io ammazzo quello Perché se mi metto il veneno Mi incazzo Madonna Cazzo lo stava Lo sai che mi hai dato il cazzo Oh Guarda la vita mia Sei andata a troie Per tre cani di merda Per tre cani di merda C'è il tuo amico là dietro Che brutta frase Dove? Là Quello Che ti mette il veneno Ecco appunto Ah Credevo l'amico Quello Che hai detto Perché è il tuo amico Aspettami qua Voglio vedere se funziona Aspetta 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 Ah vi siete messi d'accordo Quella mi stava vicenda Oh Cazzo C'è la mamma qua Vaffanculo Sì Questa è la bisnonna Le caprette di Fanno ciao Heidi Heidi No smetto Troppe canne Una coppia di malati Che siamo Secondo me ci ricoverano Heidi Heidi Lo aspetto Sì però non così Che cazzo Cosa ma Sì 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 No Lei mi morde Facetta epica Che sta qua Ah Il nostro Bello amico Eh Eh Volevi Guarda Guarda la faccia Non se l'aspettava La smetto La capra mi ha mors Tu Tu ti sei per me Ma muori male Si è pure ingastrata Mortacci sua Cioè è in difesa E mi morde Capito Cazzo mordi Tu madre Heidi Heidi Senti Devi morire È morta Mi dicono Non ne sono tanto sicura Ma vabbè Pazzai Vieni amore Ti metto un po' di vita Vitamina C Vitamina C Ciao capra Capra Non capra Oh Cazzo mordi Ambulizzata Vabbè E quell'altro dove cazzo era Mi cazzo l'avevo visto Io figlio di puttana Chi L'altro cane Ma mi dirà Amore sono stanco o stacco No Come no È sbagliato Sì sì Dopo me lo dirà Me lo dirò Stavo dicendo E scendi E vabbè Sono un essere umano Dovrò stancare Io non mi stanco mai Madonna Senti Mi ha messo la palla E mi sto a ricevere Ma Ho un problemino Come ne ho detto Ce l'ho fatta Pensavo peggio Corchazzo Quello ammazzo Che rima Però toglie sta skill È figa L'ho potenziata Aspetta L'ho potenziata A A tre Cioè potenziata a tre Già fake cool Figuriamoci Se la potenzio Tantissimo Cioè del tutto Intendo Non tantissimo Cazzo dico Già tu hai numeri Figuriamoci Se parlo male Andiamo È un rip Vaffanculo Neanche avevo letto Vallo Pertenimento Vi infante Chià Di Vallo Vavana Vallo V Phar Vallo 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 Se parlo Vallo 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 Madò questi ci fanno il culo in tre Affanculo Madò Tu mi stai mordendo lo schermo Se vedi la mia live ti metti a ridere Cioè io ci metto tre ore per ammazzare uno Figuriamoci Guarda lasciamo stare Lol Ma che cazzo Vabbè Vola, 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 vola sto guazzo Io voglio morire come un ebete Ma non penso perché ne metto due di vita Ma non penso perché adesso muoio proprio come un ebete Vabbè Ah ti rimetti pure la vita Madò Madonna Io dico già addio Addio Come non detto Macho alfa C'è uno che si chiama macho alfa Va bene Macho macho man Allora Vabbè Mi chiamo perché non ci sono c'è Perché Siamo in tre Io cambio mappa Vuoi vedere che adesso entro nella stessa mappa Io ne sono convinto Quindi non lo so Ah no 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 scherzo È che è un peccato perché qua ci sono animali buoni Vuoi venire Dai è piena la pappa La pappa Certo La mappa La pappa C'è un posto Altrimenti niente Muoviti Sta laggando Forse c'è un hacker Vediamo se mi allontano No perché ogni volta che c'è un hacker E io mi allontano poi non lagga più Vabbè No ci sono i cocco giganti C'è voi Vaffanculo No corcazzo Ti vedo Ti vedo sulla mappa Ti vengo a stalkerare Poi ti stupro Ma che cazzo Ma no c'è un miner E c'è un miner questo Porca troia Questo mi ammazza Addio Addio Ok qua mi servirà per forza il temporale Non questo skill Non qua Qua Ecco perfetto Oh ma ero tu cazzo Ti sei permesso di mordere il mio ragazzo E adesso crepi Mortacci Come hai fatto ad ammazzarlo subito Era a metà vita Eh te credo Ma ammazzata Così ci danno tanti punti Daddy Daddy Ma questo è femmina Daddy Non è Uh un cocco normale Finalmente Sto scherzando È gigante Non ho visto Vaffanculo Aspetta Dove sono Mi sono persa Ah ok Porca troia L'importante Che ti ho messo la vita Che non fa un cazzo Vabbè L'ho morso In lontananza Un giorno Un giorno è successo Che questo L'ho Ucciso E si è rimesso Di nuovo Di nuovo La vita E poi ho detto Vaffanculo Non uccido più Uccido con gli animali piccoli Del tipo Gli scogliattoli Sto scherzando Sto scherzando Con gli scogliattoli Serve la tempesta Eh si lo so Sono pericolosi Sono pericolosi Sì tanto Oh cazzo Perché almeno Ho la vita La voi Io la vita Non ce l'ho Per Tre Vieni qui Eh stai qui È azzurro Porca troia Questa ci mettiamo Due giorni Per ucciderlo Porca puttana Minchia Non ci darà un cazzo Perché ora chiamo a tutti Uffa Arma No tu sei pazza Come un cazzo Questo ti ammazza In un colpo Sai che la tua ragazza È pazza Eh lo so No ma è meno Ha 191.000 Di vita Scarsino Devo dire Bello Viola Sì è figo Lo stavo per dire io Gli ho messo io Il cursant C'è un hacker Non professionista Perché sei la professionista Che deve attaccare me Perché Perché Due Che cazzo Sai quante me ne ha date Questo una volta 35 35 Minchia per me 35 Non è nulla Questo sai cosa dobbiamo fare un giorno Se lo troviamo Lo ammazziamo in due E ti lascio l'ultimo morso E vedi quanto ti dà No quello Meno male che ti divertiamo Ammazziamo 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 i cocodrilli giganti Mi diverto Girati Senza skill Non mi diverto Chi preferisci Ne sono dei due No sto scherzando Questo Il rinoceronte è più easy Secondo me Sì è vero Sì è vero Però crepiamo Sono registruta Cazzo detto Che lingua era? Aramaico E ride Basta che non si gira Verso di te Questo Che questo Aspetta Ah vabbè Puoi anche camminare Quello per forza Lo dobbiamo fare fuori Perché sta in mezzo Tu sei pazzo Più di me Vabbè dai Anche questi Sono easy Secondo me Tanto siamo a livello 50 In più abbiamo potenziato I lupi A parte che Sta quasi per crepare Cosa? Cosa? Oh Allora Che culo si è girato all'ultimo Spiritus No si scherza Perché è sempre in sta posizione Mettiti la vita Perché Ah è un rip non andare Uh Lula Fai così No 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 Guardami prima Guardami Deve stare Cioè Ci devono essere queste cose qui No sto scherzando Tanto c'ho la vita Io faccio così perché Pian piano mi mette la vita Non so il perché Mi mette la vita della base In cui stiamo nella grotta No dai che cazzo Siamo morti insieme Ma dove cazzo Sono resuscitando A segno Ma questo mi farà il culo Eh lo sapevo Eh buonanotte Cazzo Cazzo la pari Allora facciamo così Tu metti la vita Io metto la barriera Cioè lo scudo Non la barriera Cazzo dico Però si deve caricare Perché ho messo la vita E che palle Non mi hanno fatto in tempo A mettere il tempo reale Ma affanculo vai Bastardo Questo si sta facendo uccidere dai cieli Vabbè sti cazzi Cazzi sui No ma nel senso È proprio fermo E si fa uccidere Forse sta chattando Ok Aspetta fai caricare le skill Ma è un polo questo Non può uccidere Invece si No Aspetta spostati 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 Siamo morti tutte e tre Stavo in aria Vabbè Invece di fare avanti e indietro Uccidiamo Come oasi Come oasi Se va sul cazzo Lo scudo per questo Lo dovevamo mettere Cazzo fa Mewalk Vabbè Na 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 Ah Che ore sono Cazzo le ve Le 21 No No Porca troia Lontana Fa un culo Fa un calla Non pensate Non pensate male Ascolta lo schermo Porca pupazzo Porca pupazza Telepatia Mi morde lui E mordo io Vabbè Vabbè Ah ma stanno anche Iac Quelli rossi Ah Non fa un culo Minchia Utile lo scudo Ma che cazzo ne so Non avevo visto neanche la vita Me lo prendo con il cielo Ah L'hai messo tu Sì Ma puoi morire Porca troia Vieni qua Hanno scritto Capi only Sta laggando di brutto Mi tradisci Vai con l'altro lupo Veramente Sono da solo Ah è anche maschio Cazzo è potentissimo Lo so Sta santo che c'ho i punti Boh Un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci vediamo dopo. Va bene. A dopo. A dopo. Ciao. Ragazzi se io non ammazzo gli animali giganti non ho punti. Però sinceramente parlando io ho ammazzato un lemur e ho potenziato se ricordo bene o la vita o l'attacco ma mi sa tanto la vita. Grazie a tutti. Minchia quanto cazzo è potente. Eppure a 72 di livello questo. Ma questo è il temporale non ce l'ha? Cioè porca troia. Grazie a tutti. Minchia. Meno male che questi cocco non si mettono la vita. non vedo. Non vedo un cazzo. mi ha schivato il colpo. Questa 71. eh. Porca troia. No 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 non mi incornare. Un figlio di troia. Sei proprio un puttano. Alla prossima. Poverino, mi dispiace perché mi sta aiutando e gli altri sono tutti stronzi. Alla prossima. Alla prossima. Io aspetto affinché non si carica la sua vita, anche se moriremo lo stesso. Non ci sono riuscito a mettere lo scudo. Però anche se il mio scudo non è potenziato, fa almeno un pochettino. No, se n'è andato. Ah no, è un altro player. Peccato che lo scudo dura poco, madonna santa. I creatori di The Wolf hanno fatto un buon lavoro e mi piace The Wolf, mi piace cacciare e tutt'altro. Però i creatori di The Wolf potevano fare, che so, che le skill potevano durare un pochettino di più. Ma vabbè, purtroppo. Posso farsi nulla. Nooo. Che palle. Nooo. Nooo. Sta laggando. Ma proprio di brutto, non so se ve ne state accorgendo. Madonna, come cazzo lagga o cazzo. Madonna santa. Madonna, ragazzo laggando di brutto, mio dio. Ma questo l'ha messo di temporale o cosa? Si l'ha messo. E' morto. Ah no, se l'ha andato. Credo. Boh. O se l'ha andato o è morto, uno di due. Ah no, mi sa tanto che è morto. Ma mi sa tanto che più mi avvicino un qualcosa, più lagga. Boh, non lo so, raga. Io non vi so spiegare questa cosa. Però mi sa tanto che è anche un fatto di, come dire, hacker. Gli hacker. Ogni volta che io mi avvicino a un qualcosa, boh, non so cosa dire. Ad esempio io sto qua. No, aspettate, devo vedere se sto laggando. No, qua non lagga. Ed è strano. Lagga ma non del tutto. Io mi avvicino tutto. Io mi avvicino tutto. Io mi avvicino tutto. Non so se. Sì, quello là se l'ha andato. Comunque, sta laggando di brutto io esco. Non so che cazzo uccidere perché, boh. Non so con chi andare perché il mio ragazzo se l'ha andato. Quello se l'ha andato. Non so che cazzo uccidere, vabbè. Agnanda. Vabbè. Ciao. Ciao.